Ciao a tutti ragazzi ragazzi, io sono Cicco Manol di Ablu, no, non è vero, sono Ismael GTV e oggi giocheremo a Stumble Dice, però col telefono di Jonathan. Ebbene sì, sì sì, vabbè non comincio mai, non c'ho voglia di parlare, vai. Cominciamo, vai, forza, sì, vai, sì, viva, vai, forza. Vediamo che mappa c'è, spingo round, che schifo dai raga, fai schifo sta mappa. E mi sono già preso una martellata nei denti, vai passo di qua che è meglio. Andiamo. Vabbè non lo faccio, ci vuole un anno. Non mi ha preso, non è vero. Qua mi aveva preso. Ok dai, forse mi qualifico. No. Fortire. Allora dai ragazzi, siamo scarsi, non è vero. Siamo forti raga. Raga dai, forza. Raga dai che ce la facciamo. Forza. Dai solo me e vinciamo, dai. Solo me vinciamo altre 47 corone. Ciao, sto facendo il video. Per colpa tua, non ho saltato. Avevo fatto un trick, avete visto raga. Però non ho saltato perché ho visto Giona. Cioè, sto vedendo Giona per dirgli, tipo, ciao, sto facendo il video. Raga, voglio passare di qua perché, vabbè, passo qua. Dai raga. Guarda dai, ma non mi qualifico perché, non perché Giona, perché sono passato sopra. Vabbè. Ricominciamo, dai che ce la facciamo. Dai, dai. Dai raga, ce la dobbiamo fare. Dai. Non possiamo perdere. Almeno una corona, la dobbiamo vincere. Avete capito raga? Pure Giona, devo capire. Humble Stumble. Bella, lo sapevate che Humble Stumble è la mappa principale di StumbleGuys? Comunque sono caduto perché volevo cadere apposta. Chi non ci crede è vero. Saltiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Questa volta ci qualificiamo. Ragazzi, io sono molto spillato. Avete visto? Ho fatto qualcosa. Questa volta è... Questa volta è passare qua alla retem, dopo così. Non avevo visto... Nooo. Quello con la skin speciale è morto. Sembrava forte, ma non lo è. Allora... Allora... Ho una mappa squadra. Dai, perché? 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 Vabbè, sono blu? Blu. Dai, che vinciamo? Nooo. Nooo. Qua? Nooo. Qua? 1-0 per lo... Io sto in bordo. Io sto in bordo. Hostalto in bordo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque io un po' sto zitto perché devo tryhardare, quindi se questa mappa adesso sto zitto, scusate, cioè sto un pochino zitto, devo tryhardare. Quindi tra, cioè quando faccio tryhard un pochino, è uscita Panty Splash. Mi ha fatto sei il salto a caso. Perché mi cammino a caso, raga? Sì. Perché non riesco a andare là, madonna? Eliminati. Dai, dai, perché ce la dobbiamo fare. C'è uno che c'è la mia stessa skin. E un pochino. E un pochino. Dai, raga, dobbiamo andare. Forza... Da che il video sta durando troppo... Allora, arriva a dieci minuti e tolgo. Anzi, un pochino di più di dieci minuti, troppo poco. Raga, raga. das per미 la città. Olivicato. Bochino. Oggi stavano tipo tre con la skin speciale che ci esce. Non un boostable, ok, pivot push, non è vero, vabbè dai ragà però, non laggare madonna, voi non vedete quanta lagga c'è. E' eliminato, vabbè sono arrivato fino a qua. Dai facciamo, ah sono dieci minuti, vabbè facciamo altre tipo tre. Tipo altra parte. Tipo altra parte. Tipo altra parte. Madonna, stavo risalendo. Tipo altra parte. 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 Ok ragazzi siamo qualificati. Qualificati per la semifinale. Floor flip Tutti giù dalla montagna Raga dovete stare qua Raga Raga dovete venire qua Madomma Che imbecile Doi 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 Ora che abbiamo perso un botto di tempo Madonna Si sono riqualificati solo in No io la voglio vedere la finale Solo in due Solo in due Solo in due Io la voglio vedere la finale No Qua solo in due Io tifo per Questo che c'è un nome più lungo E ha fatto pure un trick E ha fatto pure un trick Questo è un pro Madonna questo è un pro raga E' accaduto E' accaduto E' accaduto Nel prossimo video Ciao 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 Ciao